Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare una campanellina per non perdervi nel suo nuovissimo aggiornamento meteo detto questo andiamo subito a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni e perché la primavera sta veramente spingendo forte anche se siamo fuori stagione come possiamo vedere è una nostra alta pressione si andrà a spostare verso il nostro paese caratterizzando giornate tipicamente invernali con costumi primaverili quindi con belle giornate e temperature molto alte pensate che nella giornata odierna cioè quella del 2 di febbraio siamo arrivati anche a 20 gradi su quasi tutta la Val Padana attenzione perché a partire dal 4 ci saranno leve peggioramento leve inuzione tecnica veramente ma qualcosa di insensibile che non si percepirà per niente attenzione perché poi nella giornata dell'8 promontore ad alta pressione che metterà i suoi massimi sulla nostra penisola porterà temperature in netto aumento e anche giornate molto molto belle l'aumento si percepirà soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia e anche sull'Emilia Romagna ma anche non escludiamo anche con temperature che potrebbero superare i 20 gradi arrivando fino a 22 anche sull'interno della Sicilia e comunque su tutto il centro e sud per quanto riguarda i valori massimi del nord variano dai 15 e 21 gradi quelli del centro tra i 12 e i 19 gradi e invece sul centro e sud si varia dai 15 a 16 fino anche a massimi che potrebbero raggiungere 22-23 gradi detto questo vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale e lasciate un bel like per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo grazie